Il mondo sta cambiando, è un po' sotto gli occhi di tutti. Se in passato i clienti erano abituati ad andare nei negozi per comprare i prodotti portandoseli a casa, oggi spesso e volentieri ordiniamo online. E quindi attendiamo comodamente magari sul nostro divano l'arrivo del pacco nei centri della nostra città. È nata quindi ancor più l'esigenza di poter accedere ai centri delle metropoli con soluzioni di mobilità che aprano le porte davvero ai tanti spedizionieri che operano nei centri cittadini. Peugeot ha una lunghissima storia nel mondo dell'elettrificazione, soluzione ideale in questo ambito. Basti pensare che nel 1941 ha messo in produzione e in commercio la prima vetturetta completamente elettrica che aveva l'obiettivo di consegnare i pacchi all'interno delle città dell'epoca. Chiaramente la tecnologia si è evoluta grandemente nel corso degli anni e oggi la Casa del Leone è in grado di offrire una gamma di prodotti elettrificati dal plug-in hybrid al 100% elettrico. In ambito di veicoli commerciali Peugeot sta presentando in queste settimane il primo modello della nuova generazione di Peugeot e-Expert, 100% elettrico. È un veicolo che affianca le motorizzazioni classiche diesel Blue HD già presenti a listino e che offre la soluzione della mobilità 100% elettrica per avere appunto libero accesso alle nostre città. È disponibile in versione furgone lamirato con tre diverse lunghezze la più piccola da 4,61 m, l'intermedia da 4,96 m e quella più grande, large, da addirittura 5,31 m ciascuna di esse con lo stesso volume di carico delle equivalenti versioni termiche. È un veicolo disponibile oltretutto con due diverse capacità di batteria una batteria da 50 kWh in grado di assicurare 230 km secondo il nuovo ciclo di omologazione VLTP e una batteria più grande da ben 75 kWh in grado di offrire 330 km di autonomia. In entrambi i casi la batteria può essere anche ricaricata dalle colonnine rapide quelle a corrente continua addirittura da 100 kW. In tale situazione la ricarica dell'80% della batteria si effettua in appena 30 minuti oppure 45 minuti a seconda del tipo di batteria. Ma poi è anche un prodotto ideale perché offre un motore elettrico che eroga 136 CV e soprattutto una coppia di 260 Nm elemento ideale per chi fa una consegna di pacchi. Soprattutto è una potenza e una coppia erogati istantaneamente e questo agevola non poco l'utilizzo nel mezzo per scopi professionali. Peugeot e Expert è offerto con due diversi livelli di allestimento Pro e Premium che differiscono per la dotazione con una gamma che parte da 32.155 euro più IVA per la versione più corta abbinata con la batteria da 50 kWh. Chi volesse la batteria da 75 kWh basta che aggiunga 5.000 euro. Il veicolo è già ordinabile da oggi e già in consegna presso i concessionari Peugeot. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.